E' sempre bello ricevere un premio, non si sa mai perché te lo danno, però è meglio che non riceverlo. Poi vale quello che vale, nel senso che vale come i complimenti delle persone che magari usano l'oggetto che tu hai disegnato, che sono contenti, che si svegliano al mattino, lo guardano, insomma fa parte di quei motivi per cui al mattino ci alziamo e andiamo a lavorare. Quindi bello.